Ed eccoci qui ragazzi con la undicesima parte del gameplay survival sky block Oh wow che ci sono anch'io cretinetto Ma io ogni volta comincio sempre così solo che e poi dico qui con me No non mi interessa voglio essere più presente nelle tue parti non mi filmi mai Uffa Quindi io vado nel nether Ok ti seguo anch'io a ruota perchè dobbiamo andare Appunto nel nether Oh vaffanculo E a cercare le fortezze Ok Non è cambiato assolutamente niente dall'ultima volta che siamo stati qui Ehm Che altro dire Nico? C'è un fungo E mi sono portato una cosa molto speciale Dove sei? Non ti vedo Qua Dove sei? Ti sono dietro Ti sono dietro Eccoti Dove sei? Non fare il coglione Sono qua Guarda qui Mi sono portato dietro l'acqua santa Potresti utilizzarla a tuo vantaggio Comunque Eh io direi di cominciare a seguire me Segui me E andiamo alla ricerca di qualche fortezza Ma io perchè ho un piccolo in mano quando dovrei avere una spada O meglio ancora un'altra O meglio ancora un'altra E' solo fermo l'acqua Nico non vogliamo creare causini con questi docidi zombie metamaiali Dove sei finito? Ma come dove sono finito? Teletrasportati No non ti ho visto Stai fermo Più inchiodato di così Però Ovviamente noi dobbiamo anche pensare al cibo Infatti dobbiamo raccogliere più Funghi possibili Ed è quello che farò Ma porca Ma può essere che passano le macchine quando le vuoi registrare? Ma si Stai fermo Ok Nico era qui un minuto fa Però non so dove sia Allora 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 Riprendiamoci la spada Fattellando Andiamo a cercare Nico dove sei? Sono qui Rapporto Nico Rapporto Oh cacchio Mi sono rotto di Cosa vuoi? Cos'è quel coso? Un como di magma Che Ok Epic fail Cosa vogliono sti pezzi di merda? Cosa hai fatto? Io niente Mi sono venuti addosso Stupidi zombie pikman Stupidi zombie Ma si madonna Passate camion del cavolo Passate Dai tanto Oh Angelo Resurrection La resurrezione di Angelo Dove sei? In giro E in giro Affanculo Potresti anche dirmi eh Devi filmare le mie eroiche imprese Si come Che cacchio era sta cosa? E' uno stupido ghast Cos'è? Ma stavolta sono preparato Un ghastly Sono preparato Dove sei? Bastardo Vieni qui stupido ghastly Ti in culo con la sabbia Oh cazzo Oh ma che merda è? Vieni a prendere stronzo Guarda io c'ho le mele d'oro Ok epico nico sarà da quella parte Ma noi attireremo l'attenzione del ghastly Ma c'ho il no Io c'ho il moff che si sta scaricando Quindi guarda Ti salgo qui stronzo deficiente di un ghastly E non mi prendi E non mi prendi Ma che Oh che lontananza C'ha questo ghast Ti ho Seguo la rotta del ghastly Vengo da te Ma vai a piegare va Intanto molla una scoreggia Nico molla una scoreggia Intanto noi Ecco Ma che merda vuole? Colpisci mi? Oh morto Ah ecco qua c'è Nico Finalmente mori io il ghastly Arrambichiamoci qua Nico Siamo così Arrivati Sicuramente me lo sento Me lo sento Qui sopra c'è una fortezza Me lo sento Me lo sento nel cuore Me lo sento nel cuore Non c'è niente invece Perché nel mio cuore non c'è niente Nico Non hai capito niente Nel mio cuore non c'è niente Niente Nico Nico Qui sopra c'è il diavolo E' morto un altro cast Si lo so L'ammazzatore Porca Spider porca Spider porca Mi soffitto Tu mi sporg Tu mi panni sulla testa E mi macchi tutto il resto Tu qua Ti amo Spider porca Non c'è nessun cazzo di Ma come no Non c'è nessuna fortezza Ma è impossibile Nico No Nico ci stiamo sicuramente sbagliando Perché dovrebbe essere per forza qua Ma li mortacci de' minca Sono finito dentro la lava E Nico è finito Nella lava Nella lava Nella lava Nella lava Ma da qualche parte ci sarà pure una fortezza Non credo che le hanno tolte No Non può essere Angel 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 Vieni da me Vieni da me L'ho trovato la fortezza Appena non è vero ti spocca il culo Trovate È la fortezza più bella che abbia mai visto Guarda è un H Nico Anchiappati questo Manca ho preso Mi hai Ma non era diretta a te Mi hai preso Era diretta al pigman che ti sta seguendo No Affanculo Aiuto questo pigman mi vuole uccitere Ma che cazzo facciamo Qua si blocca tutto so io cosa fare so io cosa fare nico scappa più veloce che può io voglio andare a ammazzare quel cubo di pagma perchè potrebbe darmi qualcosa di interessante Angel guarda dove sono dove sei? no non mi ha dato niente a parte questi bastardi perchè va a scatti perchè va a scatti perchè va a scatti in ogni caso la parte finirà quando ci romperemo letteralmente i maroni ma continueremo la prossima Siete tutti morti per colpa mia perchè saremo ancora alla ricerca di qualcosa cioè nel nero qualcosa che non troveremo perchè non stiamo trovando un bel cazzo di niente ma in più il computer mi resta andando a scatti sarà colpa di skype quello che volete voi ma a me mi sto mi stanno cendo i coglioni eh no 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 la vita è dura Angelo crepa eccoci qui dove sei finito Angelino Pistolino sono alla ricerca di un troveremo nessuna fortezza sono per gli spiegati le fortezze noi siamo stai dicendo semmai siamo le debolezze non troviamo la fortezza oh ha matato sto grafico noi non cerchiamo le fortezze noi cerchiamo le debolezze che battutone che battute di merda degna del miglior mago di oh guarda cosa vuoi stupido pigman oh cavolo oh cavolo devo passare ed eccoci qua scusate un po' crash improvviso ma cioè in pratica praticamente ma invece di un computer di merda e basta fine no una bestia comunque cos'è questa cosa cos'è questa cosa ma perchè ci sono posti come questi all'inferno me lo spiegate si finalmente si finalmente dico minchia perché fuoco ma c'è mia adesso è anche sto pigmini pigmini che mi rompi coglione dico ho trovato la prima fortezza la esploriamola tutta anzi no non la esploreremo adesso ma la esploreremo nella prossima parte che si terrà tra poco